Allora ragazzi, San Martino Resto, ci sono quattro docce, quattro lavabi, una delle tante, una delle quattro. Ci si chiude ovviamente. Ci sono tutte quattro uguali. Allora ragazzi, buongiorno. Mi sono appena fatto la doccia al San Martino Est, sulla 1, Venezia Milano. Avete visto la situazione, sono quattro docce, il gestore è un My Chef. E niente, mi sono fatto la doccia fredda. Non avevo letto l'insegna che c'era all'ingresso della porta. Mi sono stato un po' di tempo ad aspettare che uscisse questa acqua calda, che poi non è mai uscita. E poi così, dai, mi sono fatto la doccia fredda. Vabbè, dai, tonifica la pelle. E foto. È grande come struttura, funzionale. Però un po' malandata. Una sufficienza, dai. Sei più. Beh, ciao ragazzi, a dopo. Grazie.